3 punti d'oro per la San Giustese che sbanca il Carotti per 1-0 e fa un balzo in avanti in classifica portando a 14 punti. Da rivedere la Iesina che fa invece un passo indietro rispetto alla bella vittoria di sette giorni fa a San Nicolò e conferma le proprie difficoltà nel giocare tra le mura amiche. Sul fronte Leoncello Mr. Gianangeli deve rinunciare due pezzi da 90 come Kevin Trudo e Lorenzo Carotti. Ecco quindi che in avanti insieme a Pierandrei viene confermato Margarita e il giovane Giovannini. San Giustese che si schiera con un 4-2-4, l'ex Prismans va a giocare davanti la difesa e tre giocatori sulla tre quarti a cercare di servire il bomber che dirà. Un vento forte e fastidioso condiziona le giocate dei giocatori in campo ma sin da subito si capisce che la partita sarà piuttosto bloccata e di azioni pericolose e gesti tecnici pregevoli se ne vedono ben pochi. La San Giustese prova sin da subito a prendere il pallino del gioco e la Iesina tenta invece di giocare in contropiede. La prima azione degna di nota si registra al quindicesimo quando proprio Prismans prova la botta da fuori aria ma Bolletta si distende e devia in angolo. La Iesina si fa vedere in area San Giustese al ventiseiesimo. Sassaroli cerca la linea di fondo e la trova, entra in area, cade a terra ma per l'arbitro è simulazione del centrocampista bianco-rosso. Per trovare un'altra azione degna di nota bisogna arrivare al trentanovesimo con una punizione dalla trequarti per la San Giustese. Sulla palla va Scogna Miglio ma la sfera finisce lontanissima dalla porta. Margherita dopo la buona prestazione fornita a San Nicolò prova a scuotare i suoi e al quarantunesimo cerca lo spunto personale dopo aver portato palla prova il tiro non un granché che viene rimpallato. Azione da gol pericolosa per la San Giustese al quarantaduesimo con un calcio d'angolo di Perfetti che trova e no ma il giocatore della San Giustese non trova la porta e si divora una ghiotta occasione. Si va negli spogliatoi ma la musica nel secondo tempo non cambia. Sempre la San Giustese a cercare gioco e la Iesina in difficoltà. All'ottavo minuto del secondo tempo Chedira punta Sassarol in aria, la punta Rosso Bluccade ma per il signor Gregoris si può giocare. Sempre San Giustese al quattordicesimo. La Ringe prova uno spettacolare tiro a giro ma la palla si perde sul fondo. Tre minuti dopo è sempre Margherita sulla destra a lavorare un bel pallone e a mettere la sfera all'indietro per la corrente Magnanelli. La botta però trova le maglie ospiti a ribattere. Al ventunesimo c'è il vantaggio della San Giustese. Con Chedira l'esto a correggere in rete la prima conclusione tentata da Moretti. Iesina 0, San Giustese 1. La reazione della Iesina non c'è e la San Giustese prova a chiudere la partita e ne avrebbe l'occasione al ventinovesimo quando il signor Gregoris fischia un calcio di rigore per il fallo di Gremizzi proprio su Chedira. Dal dischetto però va Scognamiglio che si fa ipnotizzare da bolletta. Bravo il giovane portiere Leoncello. Forzing Iesino sterile e assolutamente non efficace e la partita si chiude qui. Vittoria dunque preziosa per la San Giustese che con una prova di carattere e autoritaria riesce senza troppe sofferenze a portare a casa i tre punti. Preoccupante la prova della Iesina che arriva alla seconda sconfitta consecutiva allo Stadio Carotti e soprattutto fa un passo indietro al livello di gioco. Non basta la solita buona volontà. Per Mr. Gianangeli sarà fondamentale recuperare presto giocatori importanti che oggi erano in box. Migliori in campo che Dira della San Giustese, ribadiamo il finale. Iesina 0, San Giustese 1.